Buonasera a Luca Papaitz, proprio di Pelline S.P.A. Buonasera. E buonasera al responsabile della comunicazione di fresa e alluminio, Max Fadin. Buonasera. E buonasera, ovviamente, a Gianluca Orru. Buonasera ai nostri telespettatori. Allora, dicevamo la Pelline S.P.A., protagonista di questa puntata, e volevo chiedere subito a Luca Papaitz di cosa vi occupate. Beh, la Pelline S.P.A. è un'azienda che da 30 anni circa produce schermature solari tecniche, o tende tecniche, dove il tecniche è un termine che viene utilizzato molto spesso e molto vagamente, quasi come il termine sostenibile. Noi ci poniamo come progettisti e sviluppatori di tende che diano il pieno controllo del sole, dell'energia solare. Abbiamo tre divisioni, una è Pellini Nautica che tratta di tende per iodi lusso, lavoriamo spesso con Ferretti. Abbiamo un'altra divisione che ha la più vecchia, Pellini Tende Sistemi, che tratta di schermature da interno, quindi veneziane, avvolgibili, con tessuti metallizzati molto particolari. E la più grande, la divisione Screen Line, che produce e progetta tende dentro alla vetrocamera, e quindi schermature solari dentro a quei 20 mm che separano i doppi vetri di casa nostra, oppure anche delle grandi facciate di grandi edifici. Ecco, come va il mercato in questo settore? Il mercato ci sorride. Noi siamo un'azienda che ha innovato già 20 anni fa e adesso stiamo cogliendo i frutti. Cresciamo a ritmi abbastanza sostenuti e nei momenti di crisi, come tra l'altro questo, questo è il momento in cui noi cresciamo di più, perché il mercato è molto più attento al dettaglio, al valore aggiunto, molto più attento ad imparare nuove soluzioni, qualcosa che valorizzi e che dia un payback nel tempo. Questo vale... Sì, 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 non direi che noi speriamo nella crisi, ma non ci spaventa. Ecco, prodotti esclusivamente made in Italy, possiamo dirlo. Assolutamente sì. Sì, questa è un'azienda made in Italy, abbiamo avuto modo di visitarla, poi vedremo anche le immagini che abbiamo raccolto, abbiamo avuto modo anche di vedere alcuni dei prodotti, devo dire, molto particolari, molto innovativi, soprattutto la divisione Screen Line, cioè questo tende all'interno del vetro. Ovviamente è una tecnologia particolare per impedire che la polvere entri, che si opacizzi il vetro, che ci sia un passaggio d'aria e quindi che ci siano delle problematiche di visibilità, ma devo dire che effettivamente il ragionamento del dottor Papaits non fa una piega, cioè è una qualità veramente molto elevata e quindi questo probabilmente paga proprio nei periodi di crisi in cui chi produce a bassa qualità si scontra con quelli che sono i tanti produttori che producono a bassa qualità, quei pochi che lavorano a qualità molto elevata riescono a conquistare quote di mercato, quindi questa è una ricetta utile anche per tante altre aziende italiane.